benvenuti questo nuovo video un altro video fatto con l'audio registrato da alcuni utenti del gruppo non è lungo perché era di 30 secondi sabrina sabri cerca fratello se non ricordo male e chiede un messaggino insomma ecco non ci sono tante interazioni perché essendo il l'audio è corto non c'è tanto da da dire da vabbè facciamo così andiamo un attimo puff schermo intero e andiamo a vedere la traccia audio allora partiamo subito così allora qua dice che lui ha visto mamma che ha passato un dilemma di fatti dice mamma mamma dilemma ho visto lui dice ho visto da lassù cioè allora tuo fratello sta bene o almeno il tuo caro sta bene perché dice che ha visto il dilemma che ha passato la tua mamma da lassù ora andiamo andiamo avanti qua dice che non ha simulato il dilemma o non lo so ha avuto un problema tua mamma da quanto mi dice da quanto capisco e non ha simulato questo dilemma questa sua magari so se ha passato un momento brutto o di depressione non lo so adesso stai tu a vedere che cosa sta dicendo il tuo caro insomma ecco e nei traito le conclusioni qua sembra la prima volta che l'ho ascoltato sembra che dice giulia si vede ma è tullia si vede non so chi è questa tullia se ha uno spirito guida un angelo custode e però dice che vede tullia si vede e non so sinceramente che cosa vuole 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 dire insomma ecco però non lo so c'è questa non so se sia un anima un angelo custode un vostro spirito guida o una guida e che vede diciamo la situazione familiare non solo insomma qua aspetta che lo faccio ripetere dire in italiano salate a mamma allora molto probabilmente credo che lui stia dicendo che mamma usa troppo sale nel mangiare di ridurre questo sale sale perché comunque potrebbe fare male si sa che comunque sale fa male e qua dice ministro c'è un ministro che hai hai un ministro che ti sta guidando in questa sessione ma anche nella vita quindi affidatevi ai ministri cioè ai santi perché loro ci sono se noi li chiamiamo li invochiamo loro sono pronti ad aiutarci nei momenti di difficoltà cioè non lo smetterò non smetterò mai di dirlo insomma ecco è molto molto bello perché dice c'è un ministro vicino c'è un ministro che hai cioè molto è abbastanza chiaro almeno per me che io comunque ascolto la metafonia da otto anni anche in questi audio che magari una persona esterna viene qua e dice ma cos'è questa roba io non riesco a sentire niente non c'è problema non è affare tuo è affare più capire e dire quello che io sento e qua dice ancora tullia qua si sente bene perché all'inizio sembrava giulia adesso tullia a tullia si siete cioè questa tullia come ho detto prima non so chi sia se ha uno spirito guida se è un vostro angelo custode o uno della famiglia insomma è lì e vi aiuta vi protegge e vi guida insomma torniamo al mio faccione insomma è un audio corto perché era di 30 secondi ovviamente sono state tirate fuori queste piccole interazioni ma non sono non sono da sottovalutare nel senso perché comunque fa capire che il tuo parente è nella luce sta bene vi vede capisce e vi ascolta nel senso sono sempre pronti quando si dà la possibilità di dargli un piccolo spazio a mandarci anche un piccolo messaggio è un piccolo messaggio vuol dire tanto anche per loro ma dovrebbe essere anche per noi cioè non crediamo che ci diano messaggi che ci stravolgono la vita perché capisco che uno vuole avere un messaggio dal proprio caro nell'aldilà o da altre dimensioni e che ci stravolga la vita non è così nel senso ci sono messaggi che ci fanno capire e vogliono farci capire comunque loro ci sono vedono le nostre difficoltà vestono vedono le nostre problematiche di vita terrena perché comunque loro le hanno passate prima di noi o almeno le hanno passate poi dipende dall'età insomma è un discorso un po e niente questo era tutto un video abbastanza veloce almeno questi video sono anche veloci perché sennò se faccio io metafonia in un video dura 20 minuti mezz'ora almeno questi sono tipo short ecco insomma siamo sotto i dieci minuti e e è più tranquillo per voi un ascolto un una visione del video almeno chi non c'è da dieci minuti per vedere un video invece mezz'ora e ci vuole mezz'ora insomma poi oggi come oggi la vita è troppo veloce troppo frenetica 10 10 10 minuti non sono niente in confronto a mezz'ora a mezz'ora una perdita di tempo almeno uno pensa ma quando si tratta di metafonia e sentire un qualcosa che arriva da un'altra dimensione che è una cosa impensabile molta gente ancora non ci crede è incredibile ed è fantastico e niente allora al prossimo grazie a tutti